Nel Vangelo di oggi preso da Matteo al capitolo 14 dal versetto 18 e seguenti leggiamo mentre camminava lungo il mare di Galilea Gesù vide due fratelli Simone detto Pietro e Andrea a suo fratello i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Matteo ci narra la scena della chiamata dei primi quattro discepoli Pietro e Andrea Giacomo e Giovanni è interessante a notare anzitutto che essa avviene non nel Tempio o in qualche luogo religioso e sacro ma si svolge nella ferialità laica di un lavoro quotidiano molto umile. Essi infatti erano intenti a gettare le reti in mare e l'Evangelista sottolinea infatti che erano pescatori. È ancora più interessante considerare il fatto che la chiamata del maestro non stravolge nulla della loro vita e delle loro attitudini professionali ma le porta ad un piano di perfezione superiore. Questi pescatori da allora in poi diventeranno pescatori di uomini così per i quattro pescatori inizia un tempo nuovo, una nuova storia, una nuova vita in compagnia non più con i pesci ma con Gesù e con gli uomini del loro tempo. Il Signore torna anche oggi lungo il mare delle nostre giornate e mentre ognuno di noi nel suo stato di vita particolare è ripiegato a riassettare le proprie reti, curvo sui dolori e le fatiche di ogni giorno, si sente rivolgere improvvisamente lo stesso imperioso invito di allora. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Il Vangelo annota che i quattro discepoli subito lasciarono le reti e lo seguirono. Il Signore viene anche nella nostra vita non per stravolgerla o mortificarla ma per liberarla da tutte le reti inestricabili e incarbugliate del mondo. La cosa che colpisce nel Vangelo è l'immediatezza con cui prima Simone e Andrea e poi Giacomo e Giovanni lasciato subito le reti e la barca seguono Gesù. Gesù chiama dei fratelli, i Suoi primi discepoli sono pescati da una fraternità, li chiama insieme. Quando Dio passa nella nostra vita non dobbiamo farlo attendere né dobbiamo misurare le nostre capacità. Se è Lui a chiamare sa Lui a renderci capaci di rispondere ai Suoi progetti. La chiamata dei discepoli è il primo passo del ministero pubblico. Senza di loro Gesù non può iniziare la sua missione. Gesù ha bisogno di uomini che condividono la sua missione. Per questo la missione comincia con la chiamata dei discepoli e si conclude con il mandato missionario. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Questo piccolo gruppo è icona della Chiesa che in ogni tempo testimonia l'amore misericordioso di Dio e accende la luce della speranza. Che ognuno di noi risponda prontamente alla chiamata del Signore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.